Il motore franco-tedesco di nuovo al centro della ripresa economica. È quanto emerge dalle previsioni d'autunno della Commissione europea. Per Bruxelles, dopo un 2013 all'insegna della contrazione, il 2014 dovrebbe veder crescere, seppur lentamente, l'economia europea. Se la Germania e la Francia decidessero di lavorare insieme per migliorare il quadro, così come suggerito dal Consiglio, si potrebbe davvero offrire molto a tutta la zona euro in termini di occupazione e di crescita. Per il 2014 Bruxelles prevede una crescita del PIL pari all'1,4% nei 28 Paesi membri e dell'1,1% nella zona euro. Se si guarda la situazione all'interno degli Stati membri, non sembra che il quadro abbia subito degli effettivi miglioramenti. La disoccupazione giovanile, soprattutto in alcuni Paesi nel Sud Europa, è peggiore dello scorso anno. La crisi sta attraversando un'altra fase, ma non è ancora passata del tutto. Rispetto a un tasso di disoccupazione medio dell'11,1% nel 2013, infatti per il 2014 è previsto un livello dell'11%. Resta pesante il quadro della Grecia, il Paese con la percentuale più alta di disoccupati, mentre Austria e Germania confermano il loro trend positivo. Permane lo scarto tra il Nord e il Sud Europa. Ecco perché la Commissione europea pubblicherà la prossima settimana un rapporto contenente le raccomandazioni per stabilizzare le divergenze macroeconomiche tra gli Stati membri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.